Buonasera, ben ritrovati, siamo in diretta con Il Punto questa sera. Buon martedì sera al centro di questa puntata, nella nostra fascia Prey Time stiamo per dare luce ad un argomento molto chiacchierato e soprattutto cercheremo di fare chiarezza sull'ospedale in fiera. L'ospedale in fiera che spesso è finito sotto i riflettori perché qualcuno sostiene, soprattutto alcuni esponenti del centro-destra, che siano stati troppi i soldi spesi, quasi 25 milioni di euro. Ma dall'altra parte c'è chi rivendica invece che l'ospedale in fiera sia servito per salvare vite. Faremo il punto e ringrazio per aver accettato il mio invito. Apritemi il collegamento perché vado a salutare il direttore del Dipartimento della Salute della Regione Puglia, il dottor Vito Montanaro. Grazie per la disponibilità, ben ritrovato. Grazie a voi per l'invito, ben trovati. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Insieme a lei interverranno in questa puntata, e lo ringrazio, Tommaso De Palma, lo riconoscete già sindaco della bellissima Giovinazzo, e anche coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Anci Puglia. Ben ritrovato. Buonasera a tutti e un saluto particolare a Vito. Grazie perché con noi in diretta ci sarà da Fratelli d'Italia. Grazie a Lillo, ben ritrovata. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. E vado a salutare da noi moderati Pierfilippo, Marco Leoni, ben ritrovato. Eccolo qui. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, vado subito da Montanaro, perché ne approfitto della sua presenza. Insomma, dottor Montanaro, voglio chiarire con lei e anche con tutti gli ospiti. Riporto una serie di notizie che sono ovviamente uscite nelle ultime ore. La prima notizia, insomma, che, come dire, salta e balza gli occhi è quando leggiamo che l'ospedale Covid in Fiera, la Regione Puglia, rivuole i soldi. Allora, l'ospedale Covid, appunto, che è stato preposto alla Fiera di Levante, dove in questo momento non è più nella sua completa funzione, perché si chiede anche lo smantellamento, è un'opera pubblica non collaudabile. Tra poco le mostro anche delle immagini che stiamo mettendo a scorrimento e come tale dovrà essere sottoposta ad un approfondimento funzionale, ad una rivalutazione della posizione eventualmente debitoria e creditoria della stazione appaltante. Lo ha stabilito un provvedimento del dirigente regionale della protezione civile che apre un nuovo capitolo nella vicenda dei lavori da 25 milioni di euro, che poc'anzi vi ho annunciato. È una vicenda che appunto in questo momento sta indagando la procura di Bari, ma questa sera, lontano insomma dalle questioni giudiziarie, anche con la presenza di Montanaro, vogliamo capire, come ho appena anticipato, se è vero che è stato uno spreco, come rivendica una parte del centro-destra, adesso sentiremo Fratelli d'Italia, invece dalla Regione Puglia si rivendica il fatto che questo ospedale è servito a salvare molte vite durante l'emergenza Covid. Le do la parola a lei. Direi che dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di chi dirige il Dipartimento Salute e ha diretto il Dipartimento Salute, quindi l'insieme delle strutture che hanno erogato prestazioni sanitarie, nel periodo, ricordiamolo perché molti lo hanno dimenticato già, nel periodo peggiore della sanità mondiale, quando migliaia di persone in Italia morivano ogni giorno, è stata data l'opportunità al sistema sanitario regionale di fruire dei benefici di una struttura per le maxi emergenze allestite in alcuni padiglioni della Fiera del Levante. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, che è quello strettamente correlato alla risposta di salute ai nostri cittadini, non posso che citare solo pochissimi numeri. Durante la vita attiva di quella struttura, assolutamente allestita con attrezzature, apparecchiature e impianti di ultimissima generazione, sono state consumate oltre 20.000 giornate di degenza per centinaia di cittadini che, transitando da quella struttura, hanno visto salvata la propria vita, la propria esistenza. Ecco, intanto, dottor Montanaro, quello che, insomma, come dire, balza agli onori delle cronache è che, e vado da Fratelli d'Italia a questo punto perché potrà rispondere al direttore e dottore Montanaro, cioè il fatto che la regione Puglia sembrerebbe, a detta di voi, una grande battaglia che avete fatto anche quando eravate all'opposizione, me lo ricordo nelle mie trasmissioni, in cui avete rivendicato lo spreco, 25 milioni di euro, eccetera, eccetera. La questione curiosa che state rivendicando è che la regione chiede al governo centrale, dopo lo spreco che, appunto, sottolinea Fratelli d'Italia, altri soldi, altri soldi che servirebbero per smantellare la struttura che in realtà andava lasciata a fine 2022. Dobbiamo sottolineare che in questo momento, poi mi dirà se è vero o no, Montanaro, insomma, con i soldi pubblici stiamo pagando comunque 100.000 euro di affitto al mese, credo, sia questo quello che riportano le cronache. Allora, innanzitutto nulla a questo rispetto a quello che ha appena detto il dottor Montanaro. Effettivamente è una struttura di eccellenza, con delle attrezzature naturalmente all'avanguardia, che in 17 mesi di attività, perché in realtà questo è stato il periodo nel quale l'ospedale Fiera, insomma, Covid, è stato inattivo, ha ospitato circa 1.000 pazienti. Noi dobbiamo cercare comunque un attimo di raccontare velocemente la storia e il perché della realizzazione di questo ospedale, perché se non lo sottoponiamo, insomma, ad un'analisi attenta delle motivazioni, non riusciamo neanche a spiegare come mai si è realizzato e perché poi alla fine alcuni partiti naturalmente rivendicano questo costo così esagerato. In realtà, a maggio del 2020, il Ministero emette una direttiva nella quale decide quelli che devono essere degli standard che dovevano essere comunque recepiti da parte naturalmente dell'intero territorio nazionale, quindi anche a livello regionale. Quindi, considerando quello che era naturalmente il tasso della mortalità, l'occupazione dei posti letto nelle sale di rianimazione, si decide per ogni regione il numero di posti letto in rianimazione che naturalmente erano necessari. La prima domanda che noi come Fratelli d'Italia ci siamo sempre posti è come mai questa direttiva, il Ministero, la tira fuori a maggio del 2020 e Emiliano, quindi la regione Puglia, decide di dare avvio all'ospedale in fiera soltanto a novembre del 2020. Ossia, nel momento in cui si stava attraversando in Puglia un periodo di calma, diciamo così, perché ancora non eravamo stati invasi a livello epidemico da questa ondata pesante, avremmo avuto tutto il tempo necessario per pianificare una soluzione. L'ospedale in fiera, rispetto all'ospedale in fiera di Milano, è arrivato molto tardi. Ma parliamo anche di un altro aspetto fondamentale, perché se Emiliano aveva il desiderio di emulare quello che è stato fatto in Lombardia, e Lombardia è stato realizzato tramite fondi privati, invece in Puglia noi parliamo comunque di fondi pubblici, quindi occorreva probabilmente un'attenzione maggiore. Quindi voi attribuite lo spreco perché è stato messo su in tempi, come dire, lontani dalla vera e propria emergenza. Noi diciamo che probabilmente quell'ospedale o doveva essere realizzato immediatamente e con un calcolo di spesa preventivata, naturalmente, che doveva essere quanto la più attendibile possibile, non da 9 milioni e mezzo siamo arrivati a 25 milioni. Montanaro vuole rispondere alla Lillo da Fratelli d'Italia? C'è una spiegazione tecnica, ovviamente sanitaria, non di tipo politico né di tipo finanziario, che fornisce elementi molto chiari al motivo per cui si arriva qualche mese dopo rispetto a Milano. Durante la prima ondata la Puglia ha avuto 5.600 contagi a partire dal 26 di febbraio e fino alla fine di giugno. 5.600 contagi, pochissimi rispetto a quanti, soprattutto al nord, venerano quotidianamente. Evidentemente c'è un fatto statistico, più alto è il numero di contagi, più alto era il numero di posti in terapia intensiva e subintensiva da destinare alla rete dei posti letto Covid. Che cosa abbiamo fatto noi in Puglia? Abbiamo attivato un percorso di progressiva devoluzione di posti letto a coloro che ne avevano bisogno per il Covid nella triplice manifestazione, terapia intensiva, subintensiva e area medica. Abbiamo inizialmente allestito subito, già dai primi giorni di marzo, una rete di posti letto che si aggirava intorno alle 2.000 unità, 1.800-2.000 unità, dei quali devoluti alla rete delle terapie intensive quasi 200 posti letto, rispetto ai 304 posti letto totali delle terapie intensive pugliesi. Quando subito dopo Ferragosto la seconda ondata, il secondo picco per l'Italia e in particolare per il sud, per la Puglia, che aveva visto arrivare, giungere in Puglia tantissimi turisti e ritornare dalle ferie estive, molti che avevano sottovalutato la seconda ondata del Covid, io ricordo che i primi disagi li abbiamo vissuti intorno al 12-13 agosto, abbiamo cominciato a contare un numero davvero rilevante di casi di contagio che in settembre sfioravano già le migliaia al giorno. Il numero dei posti letto della rete Covid che abbiamo aggiornato in ottobre di quell'anno, ottobre 2020, è salito fino a 2.500 unità tra rete Covid e rete Covid post-acuti, perché avevamo bisogno di scaricare i posti letto negli ospedali per concedere l'opportunità anche a chi non aveva problemi Covid di essere curato. ha reso necessaria l'assunzione di una decisione da parte del sistema regionale pugliese di attivare una struttura che fosse integralmente devoluta con 152 posti letto nel caso di specie, solo a posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Il motivo è semplice, più alto è il numero dei contagiati, più alto era il numero di coloro che finivano in terapia intensiva. Stiamo parlando del 10% medio dei contagiati. Perfetto, dottor Montanaro, però vorrei anche coinvolgere gli altri ospiti perché c'è una fotografia che viene poi, come dire, divulgata a livello nazionale, per esempio il mio collega Mario Giordano che fuori dal cuoro ha mostrato delle immagini in cui abbiamo visto le apparecchiature che sono costate tantissimi soldi, addirittura lì dismesse e non destinate ad altro uso. In realtà poi arrivano delle notizie che ci giungono dalla regione Puglia che alcune di queste strutture sembrerebbero che siano andate al policlinico. Allora, c'è la verità, non c'è la verità? Cioè, qual è la verità? Perché noi questo vogliamo capire, no? Cioè, di un ospedale che lei vanta come sicuramente un progetto virtuoso e sono convinta che sia servito, come acclara lei, per salvare vite. Ma quando poi, ecco, Mario Giordano manda in onda queste immagini di, ripeto, mezzi che poi in realtà durante il Covid e l'emergenza per trovare un macchinario di quelli veramente dovevamo, insomma, ecco, chiederlo chissà dove, perché tutti cercavano gli stessi macchinari. Siamo riusciti ad averli, grazie alla capacità anche della regione Puglia. Adesso quella stessa regione Puglia dice, no, in realtà questi macchinari noi li abbiamo destinati al policlinico, ma Giordano ci mostra altre immagini. Qual è la verità? Giusto per capire. La verità è la seguente. Prima della fine dell'anno, tutte le apparecchiature che erano trasferibili dalla struttura per le maxi emergenze al policlinico che ha ricevuto l'incarico di gestire l'attività della struttura in fiera, sono state inventariate e trasferite all'interno del policlinico, esattamente nella struttura denominata Asclepios 3, che tra qualche mese vedrà l'inizio dell'attività. Quindi parlo di posti letto, parlo di respiratori, parlo di sistemi di telemetria. Sono rimasti presso la struttura in fiera due tipologie di apparecchiature mobili, cioè apparecchiature che servivano per far abbassare repentinamente la febbre ai pazienti Covid, che, ricordiamolo, spesso venivano colti da febbri altissime, e delle apparecchiature che servivano per dializzare coloro che avevano come effetto collaterale blocchi renali. Queste due tipologie di apparecchiature sono rimaste in fiera perché non avevano ricevuto il collaudo amministrativo e siccome c'è una procedura legale piuttosto rilevante, giudiziaria anzi, piuttosto rilevante in corso, era stato previsto dagli inquirenti di non toccare tutto ciò che non era stato collaudato. Sono attrezzative che saranno buttate e torneranno ad essere utilizzate molto bene. E questo ci rassicura molto, grazie direttore, perché, aggiungo un altro elemento, qui Marco Leoni può intervenire da noi moderati, perché l'ospedale in fiera riporta così scagliarini dalla Gazzetta che con le sue inchieste va sempre a evidenziare delle cose abbastanza particolari. Lavori senza progetti approvati. La relazione dei collaudatori, l'erario, non aveva il potere di spendere 23 milioni. I lavori per l'ospedale Covid della fiera dei Levanti, Marco Leoni vengo da lei, furono avviati prima ancora che ci fosse un progetto esecutivo, approvato in realtà solo una settimana prima della chiusura dei cantieri. E l'appalto che avrebbe dovuto essere giudicato sulla base di offerte prezzi unitari, cioè ribassi singoli per ogni voce di lavorazione, fu fatto senza computo metrico né lista né prezzi. Vengo da lei. Sì, grazie Manila. Saluto il direttore Montanaro e dico che comunque fondamentalmente la collega di Fratelli d'Italia aveva posto due punti. Al primo punto il direttore ha risposto in maniera impeccabile, anche perché, ripeto, non possiamo non concordare che in quel momento era giusto utilizzare sicuramente tutto quello che era possibile utilizzare per cercare di salvare viti umane, su questo siamo tutti d'accordo, ma questo è un fatto soprattutto umano e tecnicamente il direttore, che è un dirigente molto abile e capace nel suo lavoro, lo ha fatto col Dipartimento di Salute della Regione. Ma c'è il secondo punto. Forse 25 milioni sono stati tanti per quell'ospedale. E' il secondo punto di cui parlava la collega di Fratelli d'Italia, al quale il direttore non ha risposto. Ed è poi frutto di quello che dicevi tu, Manila, del fatto che comunque, d'altra parte si è aperta un'inchiesta, io sono una persona garantista, per carità, le cose verranno, si arriverà al terzo grado di giudizio e quindi si deciderà... Ma voi del centro-destra siete stati anche un po' più pesanti con la Regione Puglia, avete detto, oltre il danno pure la beffa, cioè, oltre, siete partiti da 9 milioni di euro, siamo arrivati a 25 milioni, adesso per smantellare chiedete altri soldi al Governo centrale. Questo avete riferito, eh? Certo, ma il problema è che il concetto è proprio quello. Eh, allora ti lo dica a Montanaro, in diretta, in esclusiva, questa sera, magari Montanaro, se vuole, le può rispondere. Ma anche perché, ti dirò di più, Manila, il concetto è ancora un altro. Non solo è una cosa completamente fuori dallo scenario normale, di dover addirittura raddoppiare, se non ancora di più, le spese per la costruzione di un ospedale. In un momento, in una regione come questa, che nella tua trasmissione di qualche tempo fa, proprio insieme al direttore, avevo denunciato il fatto che comunque la sanità in Puglia è completamente allo sfascio. E vabbè, qua torniamo sull'argomento. E qual è la proposta che avresti fatto voi del centro-destra in totale pandemia con l'obiettivo di ogni regione di salvare vite? Che cosa dovevano fare? Un piano per aumentare i posti letto in alcune altre terapie intensive della Puglia, in altri ospedali? Fare quello che è stato fatto, però con dei costi sicuramente più contenuti. Allora, diciamo a Montanaro. Dottor Montanaro, direttore, vengo da lei. Questa è la proposta del centro-destra che gli risponde. Mi sembra una cosa strana. Il valore di costruzione dell'immobile, della struttura per le maxi-emergenze in fiera, deriva da una serie di procedure amministrative, che in questo momento sono all'attento vaglio di organi inquirenti e sui quali io non ho il perimetro delle informazioni circostanziate tali da poter dare un giudizio sulla congruità dei prezzi. Vorrei sottolineare, come sempre mi è capitato di fare in questo periodo, anche davanti alle nostre organizzazioni sovra-regionali che hanno controllato i nostri conti e che hanno approvato tutti i bilanci e il piano delle attività che abbiamo svolto sino ad ora, che è la procedura amministrativa, la procedura di carattere impegnativo finanziario, nulla a che vedere con il grado di impegno e di utilizzo che noi abbiamo posto in essere per portare nella nostra rete ospedaliera una struttura che ci ha consentito di allestire immediatamente 150 dei 270 posti letto di terapia intensiva che abbiamo allestito in più in pochissimi mesi. Sono numeri da record, sono numeri che solo chi ha vissuto 24 ore su 24, un periodo davvero molto impegnativo, per usare un eufemismo, il più impegnativo della sanità mondiale, e io l'ho vissuto quotidianamente, sono numeri che avrebbero spaventato chiunque al solo pensarci. Per cui noi che siamo tecnici pensiamo soltanto al beneficio che abbiamo potuto trarre dall'attivazione. Un'apportante. Ecco, De Palma, vengo da lei. Allora, siamo chiari una volta per tutte, perché credo che poi all'ascolto, in questa fascia peraltro seguitissima dai telespettatori della Puglia, soprattutto oltre che la Basilicata, ma siamo concentrati in Puglia perché stiamo affrontando un tema che i cittadini pugliesi hanno molto sentito, Tommaso, lei è stato sindaco, adesso ha un ruolo importante come coordinatore tecnico del Lanci, conosce i problemi della gente. La gente poi si domanda e dice, ma 25 milioni sono veramente stati utili o questi 25 milioni si potevano in qualche modo risparmiare, visto che in questo momento la Regione Puglia è in quella posizione un po' particolare che per smantellare ha bisogno di soldi, chiede soldi al Governo Centrale e in questo momento il Governo Centrale dice, ma come? Mi avete presi così tanti dovevate invece utilizzare in un altro modo? Allora Manigra, io faccio un ragionamento tornando indietro a quei momenti drammatici. Quando avevamo veramente difficoltà, soprattutto all'inizio, il sistema sanitario chiaramente è stato colpito da un'aggressione di un qualche cosa che era inimmaginabile. Allora, faccio due considerazioni di fondo. La prima, nella salute, come un po' anche vale per il concetto dell'ambiente, dovremmo avere un approccio un po' più umano rispetto alla realtà dei problemi. È giusto controllare la spesa e questo è un fatto sacrosanto. Io credo che la nostra nazione e la nostra Regione hanno i sistemi corretti per verificare che la congruità delle spese fatte possa rientrare nel range dovuto. Là dove questo può sfuggire c'è la magistratura che fa le sue inchieste e su questo vorrei che ci mettessimo un po' tutti quanti l'anima in pace. Quello che invece è importante ribadire, che quello era un momento, perché parlarne oggi è veramente semplice, ma in quei momenti tutti quanti volevamo aggrapparci a qualcuno o a qualcosa che potesse dare una svolta ad una situazione che vedeva i territori e i sindaci, ma chiunque, impotenti in quel momento là. Quindi dal mio punto di vista, che sono stato insieme ai miei cittadini, io dico che è stato giusto fare quell'ospedale, sento con piacere che la stragrande maggioranza di quell'investimento è stato riutilizzato e questa è una cosa importante e mi permetto solo di fare una considerazione, con tutti i rispetto della Lombardia che spesso brilla per eccellenza, però vorrei ricordare che la Lombardia, nonostante è riuscita a fare per prima questa attività di avere uno spazio dedicato alle emergenze, io ricordo che sono stati i pazienti lombardi portati nelle strutture pugliese e curati e guariti e non viceversa. Quindi questo, per onore di verità, va anche a dire che forse il sistema Puglia si è comportato in una maniera utile al sistema Italia pure, non solo al sistema nostro. Ci dobbiamo fermare soltanto per 120 secondi di pubblicità in questo martedì sera con un tema evidentemente così importante e torniamo proprio tra due minuti, non cambiate canale, a tra poco. Ben ritrovati nella seconda parte del punto, questa sera, in questo martedì sera, i nostri riflettori ancora una volta sono accesi sull'ospedale in Fiera, quello che rimane dell'ospedale in Fiera durante l'emergenza Covid. Il centro-destra che va avanti ancora ad oggi con una posizione molto dura nei confronti della regione Puglia, in quanto i 25 milioni di euro spesi sono troppi, soprattutto perché in questa fase la regione Puglia rivendica al governo centrale altri soldi per lo smantellamento. Vado subito da Grazia Lillo perché dobbiamo anche aprire un varco ricordando che per quanto ovviamente chi fa il mio mestiere deve essere garantista perché fino a quando non ci sono tutti i gradi di giudizio, però c'è un'altra, come dire, filone, un altro cavallo di battaglia che voi avete molto spesso ottemperato, cioè la questione delle tangenti intorno all'ospedale in Fiera, ce lo ricordiamo, l'inchiesta sul Covid e su Mario Lerario, l'ex direttore, l'ex manager della protezione civile. Sì, noi dobbiamo cercare comunque di dividere quella che è la necessità sanitaria, l'emergenza che si poneva in quel momento e come è stata affrontata anche sul versante economico perché se la Procura, se la Corte dei Conti hanno ritenuto comunque opportuno addirittura ancora prima che si aprisse l'ospedale, perché l'ospedale è stato inaugurato a gennaio ma in realtà è diventato operativo a marzo, già a febbraio del 2021 comunque la Procura aveva iniziato ad indagare, probabilmente perché ci sono degli elementi, c'erano degli elementi che naturalmente lasciavano grossissime ombre di dubbio e ancora oggi che si chiede comunque del danaro per poterlo smantellare, a priori quell'ospedale non si può smantellare, ha detto bene il dottor Montanaro, non si può smantellare perché comunque ci sono degli attrezzi che non possono essere collaudati. Perché non possono essere collaudati? Semplicemente perché mancano degli elementi essenziali che possono fornire l'opportunità al collaudatore di firmare un collando, in quanto a monte comunque sono state violate delle norme come lo stesso codice dell'appalto. Quindi che cosa mi vuol dire con questo lei Lillo? Che quei macchinari, allora aveva ragione Mario Giordano, verranno destinati a un non mercato? Perché sentendo le parole di Montanaro mi sembra l'opposto, Montanaro parla di una situazione temporanea, cioè che comunque riceveranno questo collaudo, questi macchinari, mi è sembrato di capire così, direttore? Allo stato attuale non lo sappiamo. Il collaudo che manca è il collaudo tecnico-amministrativo, non manca il collaudo per l'utilizzo, cioè manca la documentazione che definisce il percorso di fornitura e pagamento, ma sono tutte forniture successive alla costruzione e all'allestimento dell'ospedale in fiera. Sono fuori da quel contesto, per quello che ne sappiamo, e una volta definito il percorso di collaudo amministrativo, sono strutture che possono essere mobilizzate verso il policlinico, magari mentre parliamo sono già state trasferite, è un fatto solo amministrativo, non tecnico. Però diceva Grazerillo, perché questo problema oggi di ritardo sul collaudo amministrativo? Perché oggi si è avuto questo problema? Gli inquirenti e i difensori degli inquirenti hanno chiesto di sospendere la mobilizzazione di tutte le apparecchiature che non hanno ricevuto il collaudo amministrativo. Se posso dire una cosa, trovo veramente anche per cercare di attualizzarlo al momento attuale, cioè per me c'è un errore di fondo, un vizio di fondo. Prima la dottoressa Lillo diceva una cosa giusta nel merito, cioè quell'ospedale è stato quasi ultimato senza avere l'esecutivo pronto. Allora, in un momento in cui tu devi affrontare un'emergenza particolare, devi avere delle leggi speciali, non puoi fare un ospedale in emergenza utilizzando le procedure standard del codice degli appalti, perché per arrivare a un progetto esecutivo, un sindaco sa che cosa significa, spesso passano anni... Però sia sincero. Però sia sincero, altrimenti mi mette in una posizione scomoda fra Scagliarini, che è una firma che io stimo peraltro da sempre, con la Gazzetta del Mezzogiorno, che è un giornale importante che difendiamo sul territorio. Poi abbiamo comunque il mio collega, che peraltro conosco benissimo, Mario Giordano. Cioè perché questo tipo di professionisti raccontano... No, dico, ma hanno raccontato una verità che non è reale. Procedure, parlo di procedure, se tu devi fare una cosa con tempi diversi, devi utilizzare regole diverse, altrimenti le due cose non stanno insieme. Quindi mi rispondo il fatto che Giordano abbia mandato una truppa, una giornalista all'ospedale in fiera, e si sia notato che quei macchinari erano lì in una situazione di... Ma se adesso sono bloccati perché la magistratura ha detto non potete toccarli, un altro po' di maniche. Ma no, ma la magistratura fa il suo dovere e dice per il momento non toccateli, per carità. Ma dico questa cosa, per attualizzare lo stesso concetto al PNRR. Adesso tutti si lamentano a cominciare da De Caro, giustamente, che non si riesce a fare in tempo a fare le procedure. Ma l'eccezionalità... L'eccezionalità non può comunque giustificare la violazione di norme ben decise. Ma tu devi adeguare le norme a quello che l'obiettivo ti ha. Perché se ci sono delle indagini... Altrimenti non ce la fai, questa è la verità. Marco Leoni, vengo da lei, perdonate, vengo da lei Marco Leoni. Dicevo, la questione del racconto di chi fa il mio mestiere, come, anzi, chi lo fa sicuramente con una grande professionalità, non che io non lo sappia fare, ma insomma, Scaglialini lo fa da tanti anni, altrettanto il mio collega Mario Giordano, direttore Giordano, che conosco benissimo, peraltro. Cioè, voglio dire, hanno raccontato una fotografia. Però Montanaro è stato molto chiaro e dice, no, è una questione di tempo, quindi probabilmente quando Giordano ha mandato una troupe là, in realtà è perché quei macchinari dovevano essere trasferiti, perché mancava il collaudo. Lei cosa ne pensa? Io non penso e non credo che si abbiano scomodato delle troupe da Milano per far vedere un qualcosa che dopo due o tre giorni non sarebbe più lì sul posto. Io credo che purtroppo quei macchinari saranno lì fermi per un po' di tempo ancora, ma in questa situazione, scusami Manila, io vorrei fare, vorrei un attimo rimettere in piedi il senso del discorso. Ora, è chiaro che qui in questo caso il direttore Montanaro è un tecnico, quindi lui giustamente dice, io dovevo fare l'ospedale, c'erano delle vite da salvare, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e ci siamo riusciti. De Palma dice anche un'altra cosa, non parlatene adesso, immaginatevi in quel periodo quanta difficoltà c'era, quanta disperazione c'era. Quindi noi, dice Montanaro, siamo stati un modello virtuoso invece. Da questo punto di vista nulla a questo, non c'è il problema, ci mancherebbe altro. Probabilmente avrei fatto la stessa cosa anche io nei panni del direttore Montanaro. Io penso che il problema sia un altro. Il problema è lo spreco che c'è stato. E d'altra parte, come giustamente dice la collega, se qualcuno ha aperto un'inchiesta, un motivo ci sarà. Non penso che c'erano dei magistrati che non c'havano nulla da fare. E come lo avete vinto voi, che è stato uno spreco? Per Filippo, perdonami, da cosa si evince? Perché era stato fatto prima un Disney Splain da 9 milioni di euro e poi è lievitato. Da 9 a 25 è una bella differenza. Ho capito, ma anche io quando devo ridare casa mia, ho pensato ad una cifra, poi mi rendo conto che ci sono delle altre urgenze, delle altre necessità e il prezzo può lievitare. Per non parlare di ipotetiche tangenti che ci sono state, ipotetiche perché chiaramente questo lo stabilirà la magistratura. Vabbè, ma con tutto rispetto, per quanto siamo garantisti, ma delle tangenti di cui stiamo parlando si parlava di 10-20 mila euro, qua stiamo parlando di 25 milioni di euro. Credo sia lontanissimo il paragono delle tangenti. Vado a Montanaro, cosa le rispondi a Pierfilippo Marco Leoni? Io continuo a fare una riflessione che è di assoluto spessore tecnico sanitario. Il tema del costo della costruzione, dell'allestimento e delle ulteriori forniture che hanno fatto lievitare il prezzo della struttura allestita in fiera sono oggetto delle attenzioni della magistratura. Io credo che per tutto ciò che abbiamo letto in questo periodo sappiamo benissimo che tutte le procedure di fornitura sono al vaglio, che ve ne sono alcune che hanno violato le regole per l'acquisto, le regole per le forniture, che vi sono dei difetti amministrativi nella procedura che è stata seguita per la costruzione e per l'integrazione dell'attività con stati successivi, con integrazioni successive, che sono comunque tutte al vaglio e all'attenzione della magistratura. Per quanto riguarda noi, per quanto riguarda gli operatori della sanità, quello che conta è avere avuto a disposizione in quel periodo una struttura nella quale abbiamo effettuato 20.000 giornate di degenza, di assistenza a pazienti che probabilmente non avrebbero avuto un posto dove andare, come è successo in tantissime strutture, non solo in Italia ma anche in Europa. Bene, direttore Montanaro, come ben sa questa striscia giornaliera rispetto al programma che conduco al timone della prima serata, che ho quasi tre ore e mezza a disposizione, purtroppo il tempo è finito, però se lei è d'accordo anche nella prima serata, io la voglio rinvitare, perché come sa sono sommersa di notizie sull'ospedale in fiera, si torna in maniera prepotente a parlare, quindi merita un approfondimento... No, 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 prima di licenziare il direttore, voglio fare un esempio econometrico. A Giovinazzo dobbiamo fare una RSA, casa di riposo da ristrutturare, 60 posti di degenza, costo del progetto da appaltare, quindi dobbiamo appaltare, 5 milioni e 8, quindi ogni costo di degenza costa quasi 90.000 euro, giusto per dare un dato econometrico. Torniamo. Perché poi le cose bisogna guardarle con la giusta lente, quindi io non so se forse hanno sottostimato all'inizio e hanno sbagliato la stima all'inizio, quindi andiamoci piano, andiamoci prima, andiamoci piano. La sottostima iniziale ha delle conseguenze successive. Giovinazzo, casa di riposo, 80.000 euro a posto letto. La sottostima... Credo che un ospedale probabilmente debba costare anche di più. La sottostima iniziale ha delle conseguenze successive. Assolutamente. Mi siete davvero in difficoltà, ma un tassativo, devo andare veramente in pubblicità e restituire la linea alla rete, grazie per essere stato in esclusiva con me il direttore del Dipartimento della Salute della Regione Puglia, il dottor Vito Montanaro, che ritroverò prestissimo su questo, ma anche su altri temi a cui ci teniamo. Grazie davvero per la disponibilità. Arrivederci. Grazie a voi, grazie a voi per queste opportunità che ci date. Grazie direttore Montanaro, grazie a Tommaso De Palma, che tornerà a trovarmi. Grazie, sempre piacere. Sempre in gamba. Molto volentieri. Altranto la dottoressa, grazie a Lillo e grazie al coordinatore di Noi con l'Italia, insieme a noi moderati su Taranto, Pierfilippo Marcoleoni, ci rivediamo prestissimo. Grazie a te. Adesso devo veramente andare in pubblicità, restituiamo la linea alla programmazione di Antena Sud e noi ovviamente ci rivediamo domani sera, sempre qui al Tavolo del Punto. Grazie a tutti.